Amici, questa sera cucino io una roba fresca fresca, estiva e che fa bene a tutti. Questa sera proviamo il nostro nuovo frullatore, comprato oggi, stamattina, e facciamo un frullato. Il frullato che faccio di solito io, semplicissimo, non ci vuole niente, ci vuole un buon frullatore e basta. Gli ingredienti, una banana, frutti di bosco, surgelati tra l'altro, potete sostituirli con lamponi, con fragole, con kiwi, quello che volete. Io oggi ho scelto frutti di bosco surgelati. Poi abbiamo un po' di yogurt magro naturale, un pochettino di menta e naturalmente dei cubetti di ghiaccio. Adesso vi faccio vedere come si prepara, ci vogliono due secondi. Giro la telecamera e ve lo faccio vedere. E allora amici, iniziamo con la banana, la tagliamo a pezzettini piccoli all'interno. Quindi una banana, anche con le mani la possiamo spezzare. Una banana. Poi mettiamo frutti di bosco surgelati abbiamo detto. Frutti di bosco. Poi abbiamo un po' di menta, foglie di menta fresche fresche. Un barattolino di yogurt magro. Io sto mettendo sei cubettini di ghiaccio, però naturalmente dovete metterli in funzione della dimensione del cubetto di ghiaccio. Dopodiché si chiude e si frulla in tutto. Andiamo a frullare. E così proviamo questo nuovo frullatore. C'è meraviglia. Guardate che meraviglia, che meraviglia che è venuto. Tra l'altro devo fare i complimenti a questo frullatore Bosch perché è davvero fenomenale. Ottimo, ha frullato benissimo e di una potenza inaudita. Allora, il frullato è venuto squisito. Se volete potete anche aggiungere un po' di zucchero. Io lo verso intanto nei bicchieri. Uno e due. Questo non è venuto di meno. Questo lo diamo a bettica. No, scherzo. Guardate che meraviglia di frullati. Una delizia. Ci sono voluti, sì e no, tre minuti per prepararlo grazie al nuovo frullatore. E allora amici, guardate che meraviglia di frullato. Frullato con frutti di bosco, banana, una banana, yogurt magro, un po' di foglioline di mentuccia, del ghiaccio. Una meraviglia, preparato in due minuti e per questo caldo, credetemi, è un tocca sana. Io me lo bevo, me lo sorseggio alla vostra salute e vi do appuntamento alla ricetta di questa sera. Ragazzi, vi voglio bene. Ciao amici.